Siamo partiti da qui dietro gli alberi, tutto in bici, per strada, lì ci stanno le antenne, siamo arrivati fino a sopra le antenne, qui, poi siamo scesi a discendere, fino a mezzo agli alberi, fino a qui, poi siamo venuti a fare un giro qui alla piattaforma, un tuffo da 10 metri gratuito, da fare con la bici.